Ciao amici, ciao amiche, bentornati e bentornate in questo nuovo video Oggi parleremo di un aggeggio per la skin care che si chiama Jade Roller o rullo di Giada Che è questo, questo coso che sembra uno strumento di tortura cinese ma in realtà non lo è Se lo vedete un po' umido è perché ce l'avevo in frigo, poi vi spiegherò perché È capitato di vederlo molto spesso nei video su Instagram di ragazze che facevano la skin care routine E un giorno ho deciso di andare ad approfondire l'argomento andando a cercarlo, a ricercarlo Poi successivamente ho deciso di ordinarlo, mi è arrivato, lo sto utilizzando da qualche giorno E ho deciso di fare questo video perché volevo un attimo parlare di cos'è, a che cosa serve, quali sono i suoi benefici e come si utilizza Adesso leggeremo insieme un articolo specifico sul Jade Roller che sicuramente spiegherà meglio di me le sue funzioni L'articolo in questione, cito la fonte, l'ho preso dal sito selez.com e si intitola Jade Roller il rullo massaggiatore anti-age Il Jade Roller o rullo di Giada è uno strumento di bellezza che sta entrando sempre più nella skin care routine dei giorni nostri Ma che in realtà ha una tradizione molto antica in quanto veniva utilizzato già nel VII secolo dalle donne orientali dalla pelle di porcellana A prima occhiata non si capisce bene a cosa serve, come si usa e se funziona E Amazon lo vende ad un prezzo irrisorio, anche se io l'ho trovato lo stesso ad un prezzo irrisorio Come quello che vendono su Amazon, però l'ho preso da Wish, l'ho pagato molto di meno Ma vi possiamo assicurare che il Jade Roller funziona davvero ed è uno dei beauty tools anti-rughe più utilizzati in tutto il mondo Come dicevamo, il Jade Roller è uno strumento molto antico che veniva utilizzato, seppur nella sua forma rudimentale, dalle imperatrici e dai nobili cinesi sotto la dinastia Qing? Jing? Non so come si pronuncia, vabbè, quella O Manchu Per migliorare l'aspetto della loro pelle e tenere a bada le rughe In questo articolo vi spieghiamo di cosa si tratta, come funziona, come si utilizza e cosa serve questo strumento di bellezza molto antico Cos'è il Jade Roller e a cosa serve? Il Jade Roller è un grullo massaggiatore per il viso di forma rotonda Solitamente composto da due pietre preziose di giada, poste alle due estremità Una più grande per le zone ampi del viso e una più piccola per la zona occhi e labbra E' un massaggiatore manuale per il viso a portata di tutti, chi non ha grosse controindicazioni Se ne sconsiglia l'utilizzo solo in caso di pelle lesa, infezioni, psoriasi, dermatiti e acne Il grullo di giada si può trovare in commercio in varie versioni Da quella classica con un solo cristallo di 3-4 cm a quella doppia Con anche il cristallo più piccolo da usare per il contorno occhi Si arriva poi anche a vedere Jade Roller con la superficie non liscia ma irregolare Come ad esempio quella reticolare per intensificare il massaggio della pelle Il principio dietro ai promessi benefici anti-age del Jade Roller E' che la giada naturale è un minerale che si mantiene a basse temperature a lungo Anche a contatto con il calore corporeo In questo modo strofinando il rullo lungo il viso Si può sfruttare la terapia del freddo A vantaggio della propria bellezza Specialmente se utilizzato a freddo La giada del Jade Roller trasmette naturalmente raggi infrarossi Che migliorano la circolazione sanguigna E rendono la pelle più luminosa ed elastica Tonificando i muscoli di viso e collo Il Jade Roller stimola la microcircolazione e il sistema linfatico Esercitando un effetto drenante Per cui è utile anche per gonfiori Come le borse sotto agli occhi E per gli arrossamenti come quelli post-rasatura Ricapitolando questi sono tutti i benefici del rullo di giada Migliora la circolazione sanguigna Tonifica i muscoli di viso e collo Elimina rossori dovuti al dermaroller e post-rasatura Riduce il gonfiore sotto gli occhi Stimola il drenaggio linfatico Rende la pelle più elastica Allontana lo stress internamente anche dal viso Distende il viso e le rughe Per avere i massimi benefici del Jade Roller inoltre Suggeriamo di tenerlo in un luogo fresco Anche in frigorifero o in freezer Come stavo facendo io Depitamente scatolato per evitare che entri in contatto con i cibi È preferibile inserirlo nella vostra beauty routine serale In sinergia con i prodotti di bellezza che siete solite utilizzare Dopo aver pulito bene la pelle con latte detergente e tonico Applicate poi il contorno occhi, siero e crema notte sul viso e collo Successivamente prendete il rullo di giada freddo E massaggiate la pelle esercitando una leggera pressione Ed eseguendo movimenti che vanno sempre dal basso verso l'alto Per contrastare gli effetti della gravità E dall'interno verso l'esterno Il massaggio servirà anche ad aiutare i prodotti che avete applicato in precedenza A penetrare meglio nella pelle e a fare più effetto Se poi avete acquistato il Jade Roller che ha anche il mini rullo di giada Sarebbe questo Adoperate il cristallo anche la mattina Dopo aver lavato il viso e aver applicato la crema giorno Il massaggio del minerale lungo la zona a borsa e occhiaie Può aiutarvi a ridurre il classico edema del risveglio Rendendo lo sguardo più fresco e luminoso Il massaggio oltre ad avere proprietà anti-age e leviganti È una pratica piacevole Una coccola da regalarsi sempre Sono solo 5 minuti del vostro tempo Che dedicate a voi stessi Ne vale la pena visti i risultati Il Jade Roller l'ho visto su diversi siti a diversi prezzi L'ho visto dagli 8 ai 4 ai 30 ai 40 euro Certamente quelli dotati di certificazione E comunque hanno un'azienda che ci mette il proprio marchio sopra Costano un po' di più Se hanno una certificazione e una garanzia Potete stare tranquilli e tranquille Che è già da naturale e originale Sinceramente io 30 euro non li volevo spendere per il Jade Roller Quindi sono andata a dare sia un'occhiata su Amazon Sia un'occhiata su Wish e Aliexpress Se su Amazon un aggeggio come questo non ha stampato su un nome Una certificazione o un venditore ufficiale Sappiate che sono gli stessi articoli che sono venduti anche su Wish e Aliexpress Soltanto che sono venduti anche su Amazon Ma su Amazon hanno un prezzo leggermente più alto Anche perché tendenzialmente Sì l'articolo lo paghi un po' di più Ma ti arriva prima Mentre lo paghi di meno e ti arriva dopo Se lo ordini sui siti come Wish o Aliexpress Quindi l'ho ordinato su Wish E mentre facevo l'ordine pensavo Lo sto pagando 3 euro Perché l'ho pagato 3 euro Se sarà in plastica Amen L'avrò pagato 3 euro Se sarà fatto in piedra Tanto li ho guadagnato Ho risparmiato un bel po' di soldini Ho dovuto aspettare quasi due mesi Per poterlo ricevere Perché l'ho ordinato due mesi fa Non so se gli ordini vi stanno arrivando in ritardo Perché ce l'estate di mezzo Non lo so Ma in questo periodo Tutti gli ordini che ho fatto su Wish Stanno tardando ad arrivare Infatti sto aspettando Altre paio di ciglia finte magnetiche Che non stanno arrivando Ma spero arriveranno presto Appena mi è arrivato Era ancora sigillato Vi ho lasciato la foto Su Instagram Nelle storie E nella sezione community di Youtube È arrivato perfettamente sigillato E sottovuoto In una confezione di plastica trasparente Appena l'ho aperto La prima cosa che ho notato Era che comunque Era bello pesantuccio Ovviamente poi toccandolo Ti rendi conto se una cosa è fatta di plastica o di pietra Ed effettivamente questo è fatto in pietra Toccando la Jejos Quindi sia qui Sia qui Queste parti Erano molto più fredde Rispetto a quelle metalliche Quindi presumo Perché di certo In questa vita Non c'è niente Che sia il Jade Roller Però senza brand Cioè quello anonimo Senza marchio sopra Adesso zoom Così ve lo faccio vedere meglio Questa è la parte Che si utilizza per il viso Questo è il manico E questa è la parte Che si utilizza per contorno occhi e labbra Ho iniziato ad utilizzarlo da pochi giorni Quindi per quanto riguarda Gli effetti benefici sul viso È ancora troppo presto Per dare un riscontro Però nel momento in cui lo utilizzo Mi rilasso Devo ammettere che mi rilasso abbastanza Adesso andremo ad utilizzarlo insieme Io ho già fatto la mia skin care I passaggi per la mia skin care Mi manca soltanto quello della crema Per fare quest'ultimo passaggio Me ne sono venuta qui dentro Perché stavo un attimo più comoda Ho fatto quindi detersione Con la spazzola viso in silicone Successivamente ho applicato il tonico E mi sono fermata appunto Al passaggio del tonico Perché adesso andrò ad attivare la crema Andremo a fare il massaggio Con gli Jade Roller Porto i capelli indietro Vado a prendere la crema Che utilizzo per la mia skin care serale E questa è la Extreme Genes di World of Beauty Questa è una crema viso anti-age Aromaterapica È un profumo grumato La vado a prendere con la mia spatolina Perché mi aiuto con la spatolina Per prendere la crema Altrimenti mi va nelle unghie E mi dà un fastidio assurdo Quindi per applicare le creme Non puccio dentro con il dito Ma utilizzo la spatolina Che è anche quella che utilizzo Per stendere le maschere Ah, mi sono dimenticata di dirvi anche Che il Jade Roller Serve anche per far aderire E assorbire meglio i principi attivi delle maschere Soprattutto quelle in tessuto Ho visto molte molte persone Utilizzare il Jade Roller Una volta che hanno applicato la maschera in tessuto Per farla aderire perfettamente al viso E far penetrare meglio poi I principi attivi della maschera Questa cosa mi sono dimenticata di dirvela Comunque vado a prendere la crema La composizione di questa crema viso È adatta anche al contorno occhi Quindi la utilizzo anche come contorno occhi Stendo normalmente la mia crema Con le mani Lo do anche qui sul decolleté Adesso che ho finito di applicare la crema Si vede ancora un pochino l'alone Perché la pelle ancora non l'ha assorbita tutta per bene Vado ad aiutarmi con questo Comincio prima con il massaggio viso E poi passo al contorno occhi e labbra Il massaggio va effettuato Con i movimenti dal basso verso l'alto Esercitando una leggera pressione In questo modo Non è un'operazione che richiede tantissimo tempo Quindi è tranquillamente fattibile C'è chi dice di utilizzarlo anche un quarto d'ora Un quarto d'ora al giorno Però un quarto d'ora no Un quarto d'ora al giorno no Soltanto per questo coso Sono sicura che 5 minuti O anche meno Vanno bene uguale Sul viso vanno fatti dei movimenti Verso l'alto e verso l'esterno Quindi parto così Quando lo passo in queste zone Mi viene da addormentarmi Facendo questo movimento Si va oltre che a massaggiare E a tonificare Anche a drenare Vado sulla fronte Sempre dal basso verso l'alto Adesso utilizzo la parte più piccola Del jade roller E vado sul contorno occhi Molto delicatamente E adesso vado sulle labbra L'ultimo passaggio Adesso applico il burro di cacao Qui sulle labbra Terminata la mia skin care serale E di conseguenza anche questo video Che spero tanto vi sia stato utile Fatemi sapere sotto nei commenti Se conoscevate già il jade roller E se lo utilizzate anche voi Grazie mille per avermi tenuto compagnia Vi do appuntamento al prossimo video Ci vediamo alla prossima Grazie mille per avermi tenuto compagnia Ciao a tutti i nostri spettatori 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 Ciao a tutti i nostri spettatori